Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Infibili per lavori tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa, due chilometri di coda verso Firenze e rallentamenti verso Livorno. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. In A1 verso Bologna per lavori corsie di destra chiuse tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci. Per questi lavori è chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in uscita provenendo da Roma e in entrata verso Bologna e ci sono due chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. Ancora verso Bologna un chilometro di coda per un incidente al chilometro 302 tra Incisa Reggello e Firenze Sud e rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il vivio con la variante di Valico Baccheraia. Ancora in A1 ma verso Roma rallentamenti tra Aglio e il vivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 rallentamenti tra l'allacciamento con la 15 e Carrara verso Rosignano e in A15 code tra Ulla e l'allacciamento con la 12 verso La Spezia. Ed è tutto, buon viaggio!